Sono qua con Renna del Cornigliano Calcio, team manager. Volevamo un commento un po' di questa partita. È stata una partita molto equilibrata fino alla fine, anche se noi abbiamo cercato i tre punti. Il campo è molto difficile, il primo tempo soprattutto. Questo è un campionato che fino alla fine sono partite molto equilibrate, dove gli episodi decidono le partite. Non dobbiamo allare e credo ci fanno la fine. Grazie.